Mi devo preparare, ho la riunione, adesso faccio a Barbie, come mi litideranno, oddio mio, come faccio adesso? Ma dove, dove vai? Firmati, fermati! A riunione, a riunione, a Barbie! No, 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 non c'è riunione, è stato tutto inollato! E perché? Ma come perché? Perché c'è un virus in giro che ci impedisce di stare in cili, in cili, in cili, in cili, in cili, in cili! Oh, cilermoline, come faccio adesso? Guarda, è una bella cosa, rimpacchetta tutto, metti tutto in ordine e non lasciare il casino in giro, è la cosa migliore da fare! Tuffa però, io volevo fare anche la promessa! Eh, per quella ci sarà tempo, non ti preoccupare! Va bene!